Wabalabadabdab, bentornati su No Mamamazzo, torniamo a parlare di WandaVision, episodio 8, dal titolo nelle puntate precedenti, dove ovviamente già si vociferava, c'è una sorta di puntata flashback, dove c'è lo spiegone di tutto ciò che è successo. Siamo ben lungi da quella che è la sitcom delle prime puntate, tant'è che anche la durata dell'episodio non è più di 30 minuti, è di 45 minuti come una normalissima serie tv, e questa è come sempre una recensione, una impressione a caldo. Quindi ovviamente se mi scordo qualcosa, perché sto andando a braccio e non ho neanche preso appunti, scrivetemelo qui sotto nei commenti, è come un video interattivo, già che ci siete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, condividete il video con tutte le persone che sanno usare la magia, e commentate appunto qui sotto con quello che ve ne è parso dell'episodio e ovviamente se ho dimenticato qualcosa, iscrivetevi anche agli altri miei social per rimanere aggiornati se faccio qualcosa su qualche altro canale tipo quello viola. Vi ringrazio tantissimo per le visualizzazioni dell'episodio scorso, del mio video sull'episodio scorso, perché davvero io ormai sono concentrato quasi sui fumetti, sui fumetti italiani, quindi se vado un po' fuori argomento e parlo di Marvel dopo un anno che non ne parlavo, è chiaro che le mie views scendono. Devo dire che l'episodio 7, a differenza di tutti gli altri, invece ha ottenuto un buon riscontro. E vi ringrazio tantissimo per avervi dato questa fiducia, spero di avervi conquistato, ecco, diciamo. Allora, andiamo subito a parlare di WandaVision, episodio 8. Faccio spoiler, ragazzi, quindi mi raccomando, se non volete saperne nulla, ci vediamo quando avete visto il telefilm. Allora, cosa c'è da dire? Si è cominciato esattamente dove era finito lo scorso episodio, ovvero il confronto tra Agatha Arkness e Wanda Maximoff. Vediamo un po' nelle puntate precedenti, cioè quello che è successo nel passato di questi protagonisti, sia dal punto di vista di Agatha, quindi vediamo il passato di Agatha, sia dal punto di vista di Wanda. Ovviamente cose che già sapevamo, che già ci avevano raccontato in Avengers Age of Ultron, ma le vediamo. Per quanto riguarda Agatha Arkness, vediamo per la prima volta una sorta di processo alle streghe da parte delle streghe stesse, ovvero pensate quanto può essere pericolosa una persona, una strega, se persino la congrega stessa vuole metterla sul rogo. E già questo ci fa capire quanto Agatha possa essere pericolosa. Così pericolosa che probabilmente sapeva già la fine che avrebbe fatto e ha creato o ha studiato una sorta di incantesimo in cui il fuoco generato dai poteri della congrega stessa diventava una sorta di assorbimento della loro energia vitale, tant'è che è diventata talmente potente anche per questo, perché ha assorbito l'energia di tutte le streghe della congrega, tra cui anche il capo che a quanto capito fosse sua madre, se non ho capito male, ed è da lì che viene il legame con il cameo che ha sempre addosso, perché l'ha strappato al corpo morente del suo capo di questa congrega, nonché appunto madre di Agatha. Si cerca anche di capire, si inizia anche a capire che il motivo per cui Agatha ce l'ha con Wanda è semplicemente in un certo senso invidia, nel senso che abbiamo subito visto come Agatha fosse potente, ma la sua potenza, la sua magia, che è una magia classica, quella che abbiamo visto per esempio imparare da Stephen Strange in Doctor Strange, quindi non è qualcosa di fantascientifico, qualcosa che attinge a una gemma dell'infinito, è la classica magia con le formule magiche, il latino che può appunto alterare la realtà. Vediamo come Agatha è invidiosa fondamentalmente del potere che ha sprigionato Wanda Maximoff e vuole capire come fa, vuole capire cosa c'è dietro alla sua magia per poterla assorbire sicuramente, per poter diventare più potente di Scarlet. Tenete bene presente che la chiamo Scarlet, poi ci arriviamo. D'altro canto vediamo la storia di Wanda Maximoff, quello che appunto già sapevamo in Age of Ultron, ovvero che è arrivata una granata che ha distrutto la casa dei Maximoff. Scopriamo che appunto prima che succedesse questo Wanda era appassionata di serie tv americane e questo è anche un fantastico gancio su come sappiano una seconda lingua appunto, quindi non il socoviano ma anche l'inglese, proprio perché usavano le serie tv americane per imparare l'inglese. Vediamo che tutte le serie tv che guardavano ovviamente sono quelle che Wanda poi ha riportato nella sua WandaVision, in cui appunto si isolava, come tutti noi nerd facciamo, si isolava dalla realtà orrenda in cui viveva per una mezz'ora ogni tanto isolarsi in questo mondo fittizio, cosa che poi lei ha riportato appunto nella sua WandaVision. Vediamo appunto che durante questo momento familiare esplode la prima bomba, come aveva già raccontato, e la seconda bomba gli si piazza davanti a questi fratelli rimanendo inesplosa e lì vediamo quello che potrebbe essere il motivo per cui due persone così vicine, due fratelli, hanno sviluppato poteri così diversi grazie alla Gemma della Mente, ovvero tutto quello che voleva fare Pietro era scappare il più lontano possibile da quella bomba e guarda caso gli si è sviluppata la super velocità. Tutto quello che invece cercava di fare Wanda in quel momento era continuare a, diciamo, isolarsi guardando la televisione che era rimasta accesa su Dick Van Dyke in un episodio, tra l'altro, dove era tutto un sogno, quindi quello che voleva fare Wanda era appunto fuggire dalla realtà, tant'è che i suoi poteri poi hanno a che fare con la manipolazione della realtà stessa. Questo è uno spunto molto interessante, molto sottile appunto che suppongo abbiano scritto volutamente gli sceneggiatori perché sono molto sapienti le mani di questi sceneggiatori. Mi ha ricordato un po' anche la prima serie di, la prima stagione di Misfits, dove i poteri che appunto di questi scappestrati erano relativi alle loro caratteristiche peculiari. Ricordo appunto anche un po' i poteri dei mutanti stessi, dove appunto la mutazione dovrebbe avere a che fare con quello che stanno passando nel periodo di transizione di adolescenza. Per un secondo Agatha ci fa quasi anche pensare che i poteri di Wanda fossero già presenti in lei, latenti, e che abbia già modificato la realtà, le probabilità, facendo in modo che la bomba non esplodesse per due giorni. Questi poteri sono stati sviluppati dalla Gemma della Mente che era contenuta appunto nello scettro di Loki. Vediamo che quando Wanda è a contatto con la Gemma della Mente ha una visione che non è visione, ha una specie di allucinazione che la porta a vedere qualcosa, una figura tra le fiamme. hanno proprio rappresentato Scarlet Witch come se fosse appunto la Fenice del mondo Avengers. Se conoscete i fumetti Marvel sapete che tra gli esseri più potenti dell'universo c'è l'entità Fenice, che poi si era impossessata di Jean Grey, che è una telecineta, ma sappiamo anche che Wanda Maximo è tra gli esseri più potenti dell'universo Marvel. Noi vediamo questa figura appunto che è chiaramente quello che sarà in futuro Wanda Maximo, ovvero la Scarlet Witch, con tanto di tiara a forma di DM addosso, che finora non ha mai portato tranne nella puntata di Halloween. vediamo questa entità avvolta nelle fiamme, proprio appunto come se fosse potente quasi quanto la Fenice dei mutanti, degli X-Men, e poi Wanda sviene. Subito dopo, quando appunto Agatha capisce l'origine dei poteri di Wanda, capisce la pericolosità stessa di Wanda, capisce come Wanda in realtà non sia una strega, le mancano proprio le basi, non sa cosa sono gli incantesimi, non si accorge nemmeno che è in un luogo dove c'è un incantesimo di protezione che le impedisce di usare i poteri, semplicemente perché Wanda non ha appreso la magia nel modo classico, non ha appreso la magia dai libri, ma l'ha appresa in modo fisico, quindi semplicemente usando questi poteri che gli si sono ritrovati come se fossero appunto dei poteri fisici, che hanno a che fare con la materia, non tanto con la magia, anche se magia e scienza, come disse Thor nel primo film, sono la stessa cosa quando si arriva a un punto tale di conoscenza, ed è qua che Agatha e Wanda utilizzano gli stessi poteri ma in modo diverso, quindi con la magia classica come tutti la conosciamo e con la manipolazione della materia. Però Wanda ha talmente tanti poteri che secondo Agatha, che finalmente nel finale dell'episodio la vediamo in tutto il suo splendore, quindi con il costume classico che ha anche nei fumetti, finalmente vediamo Agatha che è preoccupata del potere di Wanda perché vede in Wanda un'entità pericolosissima, che è appunto la Scarlet Witch. Se voi ci fate caso, in tutte le connotazioni precedenti nel Marvel Cinematic Universe, Wanda Maximoff non è mai stata chiamata Witch, non è stata mai chiamata strega prima d'ora, è sempre stata chiamata Scarlet, semplicemente Scarlet. Se lo vedete nei titoli di coda, nei giocattoli che trovate in giro, non è mai stata chiamata Scarlet Witch. Presumo che non lo sapessero fin dal 2015 questa cosa, che non stessero studiando tutto questo, semplicemente molto probabilmente non volevano utilizzare Witch, che ha una connotazione negativa per un personaggio Marvel, e molto probabilmente perché non aveva davvero dei poteri magici nelle incarnazioni precedenti. Adesso Wanda è arrivato a un punto tale di sviluppo dei suoi poteri che si può considerare finalmente magia. E hanno sfruttato questo come se appunto ci fosse qualcosa dietro di più importante dentro Wanda, come appunto non è il famigerato Mephisto che pensavamo, ma potrebbe essere un'entità che è dentro Wanda, che è la Scarlet Witch. Oppure Scarlet Witch, secondo Agatha, potrebbe essere appunto qualcosa, una specie di messia negativo, che finalmente è arrivato nella figura di Wanda. Probabilmente è qualcosa che nei libri di Agatha si è sempre letto con timore e finalmente si è manifestato in Wanda. Quindi Agatha è sia spaventata da Scarlet Witch, ma sia invidiosa e vuole i suoi poteri. Sappiamo anche che Pietro appunto è stato mandato da Agatha, che quindi ancora una volta ci scordiamo il multiverso, è stato semplicemente un omaggio a un altro Quicksilver. Niente di più, niente di meno. Chissà se ci sarà mai il multiverso, o se continuano a farcelo annusare per poi togliercelo da sotto il naso. mentre nel finale, nella scena dopo i titoli di Coda, vediamo che appare una figura che avevano anche annunciato. Se guardate per esempio il video che ha postato in questi giorni Andrea di Nerd Movie Production, che se riesco vi metto in descrizione qua nelle schede, appare finalmente Visione Bianco. Visione Bianco, altro non è che il corpo, in questo caso nel Marvel Cinematic Universe, è il corpo di Visione riportato alla vita senza la gemma della mente nella testa, di conseguenza è null'altro che un freddo robot, che appunto sarà spedito all'interno dell'ESA, probabilmente per combattere Wanda. Vediamo anche in questa puntata che invece il Visione che c'è all'interno non è il corpo di Visione che è stato trafugato da Wanda come pensavamo fino adesso, ma è parto interamente della mente di Wanda. Quindi sia Visione sia i due gemelli sono usciti totalmente dalla mente di Wanda. Ora, non sappiamo quindi se Visione e i gemelli fuori dall'esagono riusciranno a mantenere la vita che Wanda gli ha dato oppure se la loro vita, la loro esistenza è legata appunto a questa cupola. Sarei curioso di scoprirlo, sarei anche curioso di scoprire cosa succede per quanto riguarda Visione fuori dall'esagono e la gemma della mente che in teoria è stata distrutta. Quindi la gemma della mente che ha incastonato nella sua mente è stata creata anche quella da Wanda. Quindi bisogna capire se tutto questo è parte dell'illusione di Wanda Vision oppure i suoi poteri sono talmente potenti da uscire persino appunto dalla cupola che lei ha creato. Ovviamente è probabile che per utilizzare i personaggi questa sarà la seconda, sarà l'ipotesi più plausibile e si scopre anche perché Westview, perché in tutto il mondo una cittadina del New Jersey semplicemente perché Visione con tanto amore aveva comprato un terreno, quindi nemmeno la casa ma un terreno per invecchiare insieme a Wanda una volta che sarebbero finiti tutti i guai, tutto il loro servizio come Avengers sarebbe finito. Quindi Wanda arriva a Westview, vede la proprietà che Visione aveva comprato per loro e impazzita dal dolore esplode creando questa realtà. Se mi sono perso qualcosa scrivetemelo qui sotto, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. La prossima puntata dovrebbe essere l'ultima puntata dopodiché inizierà Falcon and the Winter Soldier. Vediamo nell'ultima puntata cosa si prospetterà. sarà ancora una puntata altrettanto lunga forse di più e vediamo se tutto questo ci porterà appunto a Doctor Strange and the Multiverse of Madness oppure se comunque vedremo questi personaggi ancora in futuro. Come sempre io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.